E quest'oggi, gente, torniamo a parlare di blockchain, l'argomento in assoluto più caldo degli ultimi mesi, in chiave però demistificatrice, perché nonostante la chiarezza che credevo di aver portato con il video della volta scorsa sull'argomento, alcuni messaggi che ho ricevuto in direct mi hanno portato a ricredere. E questo in primis a causa dell'estrema ampiezza e complessità che contraddistingue questo argomento, all'interno del quale i dubbi e le perplessità fioccano come tulipani al sole. Pertanto, gente, è in alto i cuori perché nei prossimi minuti andremo a sfatare i 7 miti più diffusi sulla blockchain, spiegando come stanno in realtà effettivamente le cose e quindi andando anche implicitamente a fare ulteriore chiarezza e ad approfondire quanto detto nei video precedenti sull'argomento. E seguitemi fino alla fine perché in coda al video ve ne rivelerò anche un'ottava bonus. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto non dimenticatevi di attivare anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Anzitutto la nostra canonica e doverosa premessa, la quale in realtà oggi è più che altro un ringraziamento, in quanto il video che abbiamo pubblicato qualche settimana fa sull'argomento blockchain sta riscuotendo un buonissimo successo in termini di interazioni e visualizzazioni. E questo solamente grazie a voi che ci seguite, supportate attivamente. Per cui davvero, davvero grazie mille. E se siete invece appena capitate sul canale e non avete idea di che cosa io stia parlando, vi rimando al video in discussione che troverete linkato sia qui sotto in descrizione che on screen e che vi consiglio di andare a recuperare in quanto contiene una panoramica a 360 gradi dell'argomento blockchain. Background fondamentale per comprendere appieno i temi che andremo a trattare nei prossimi minuti. E detto questo, passiamo oltre iniziando ad analizzare subito il più classico tra i falsi miti in assoluto, ovvero che Bitcoin uguale blockchain. Assolutamente no! Perché sebbene siano state indiscutibilmente le criptovalute a portare alle masse la consapevolezza dell'esistenza, quantomeno del termine blockchain e da qui forse la nascita della confusione del presunto sinonimo, di fatto quest'ultima è null'altro che la tecnologia che è sottostante a progetti come Bitcoin e le criptovalute in genere. Ma non solo, perché infatti sono già tantissime le realtà che stanno implementando la blockchain in campi come l'industria alimentare, la sanità e il turismo. All'interno di una supply chain, infatti, può essere utilizzata per monitorare e tracciare la provenienza, la spedizione e la proprietà di un qualsivoglia bene, scoraggiandone quindi la contraffazione ed ottimizzandone al contempo la gestione. Mentre invece se si parla dell'ambito sanitario può essere facilmente utilizzato per gestire i nostri dati sanitari digitalizzati e quindi ovvero la nostra intera storia clinica in forma digitale che può essere facilmente e liberamente consultata solo dai professionisti autorizzati che ci hanno in cura, i quali a loro volta potranno aggiungere all'interno di esse i risultati di determinati esami. Un po' come accade già attualmente con il progetto Sole, attivo se non vado errato in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, il cui progetto appunto permette a tutta la cittadinanza di avere, di poter usufruire liberamente del cosiddetto fascicolo sanitario. Falso quanto una banconota da 300 euro, in quanto attualmente i vantaggi che apporta ad un sistema l'utilizzo di una blockchain ha un considerevole rovescio della medaglia dato dai compromessi tecnici, in quanto in termini di velocità e scalabilità, ovvero la capacità di un sistema di essere adattato in caso di notevoli cambi della mole, quindi della quantità o della tipologia dei dati utilizzati, i database sono ancora tutt'oggi da preferire in maniera assoluta, soprattutto quando si ha a che fare con notevoli volumi di transazioni. Tuttavia l'utilizzo di un sistema basato sulla blockchain, come dicevamo appunto nel video della volta scorsa, è imprescindibile nel caso si debba tassativamente permettere ai vari utenti che fanno parte della stessa di riuscire a scambiarsi vicendevolmente informazioni senza la presenza di un server o di un'entità garante. No, non tutte esistono infatti blockchain pubbliche e blockchain private. Le prime, come quelle nel caso ad esempio che stanno alle spalle delle criptovalute, non hanno bisogno di alcun tipo di autorizzazione e permettono agli utenti di rimanere anonimi nel mentre che tracciano le transazioni. Diversamente le grandi imprese sono più portate a utilizzare reti private che consentano solamente ad entità autorizzate, come ad esempio il governo, partner, commerciali, fornitori o clienti di accedere e fruire delle informazioni, nel mentre che la compagnia stessa può verificare il gestire liberamente e autonomamente la struttura della blockchain in essere, oltre appunto a sapere sempre e in ogni momento chi ha acceduto al sistema e per quale ragione. Falso, una blockchain è sicura quanto lo è l'anello più debole della sua catena. Se da un lato infatti è vero che è impossibile andare a modificare i dati contenuti all'interno di essa, le transazioni, le informazioni contenute all'interno di essa per via dei principi di immutabilità e decentralizzazione di cui abbiamo parlato la volta scorsa e che altrettanto è molto difficile per un qualcuno non autorizzato accedere a quei dati, tutto dipende dalla qualità della sua architettura di sicurezza. I partecipanti ad una blockchain infatti devono essere in grado di assicurare che i dati, le transazioni e le informazioni inserite all'interno dell'ecosistema possono contare su livelli di sicurezza e di protezione appropriati, in quanto la violazione di un singolo anello della stessa potrebbe compromettere l'intera catena. Per questa ragione una criptografia di tipo end-to-end, esattamente come quella che trovate su WhatsApp all'interno delle varie chat, che magari in futuro andremo a spiegare effettivamente di che cosa si tratta, sarebbe in questo caso doverosa e anzi personalmente la ritengo quasi obbligatoria. Anche qui falsissimo. La blockchain garantisce, nei limiti di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che i dati al proprio interno, i dati contenuti al suo interno non vengano modificati, ma non può in alcun modo accertare se tali dati corrispondono a verità. O meglio, può verificare ed accertare la veridicità e la correttezza e la coerenza dei dati già contenuti all'interno di se stessa, ma non può appurare se l'input esterno, il dato che riceve, sia accurato e veritiero. Questo nel senso che se io adesso dico che questa è casa mia, ma non lo è, e vengo autorizzato ad inserire questa microscopica informazione all'interno di una blockchain, essa provvederà a registrarla considerandola senza alcun'ombra di dubbio come veritiera, in quanto non ha alcun modo per verificarne l'attendibilità. E a tal proposito ci tengo a spendere altre due parole sull'argomento, perché si tratta di una questione davvero molto delicata ed importante. Se ci fate caso, negli ultimi mesi, ma anche nell'ultimo annetto, sono davvero molte le aziende che hanno affermato di aver implementato la tecnologia blockchain all'interno di esse. Bellissimo, assolutamente un'iniziativa più che lodevole. Ma ciò dipende da come è stato fatto. Cioè dire che io utilizzo una tecnologia blockchain di per sé è fuffa, non vuol dire assolutamente niente, perché dipende dal metodo e dalla struttura che ciò comporta. Mi spiego meglio, se io DocSRL, che produco scaccolatori automatici, un prodotto che sarebbe peraltro rivoluzionario, affermo ed inserisco all'interno della mia blockchain che oggi, 17 agosto 2022, ho prodotto il lotto 449, per esempio, la rete non potrà far altro che registrarlo e prenderlo per veritiero. Ma secondo voi questo è sinonimo di trasparenza? Assolutamente no, perché l'informazione in questione potrebbe essere completamente falsa e la blockchain non potrebbe, in virtù di quanto abbiamo detto prima, verificarne ed accertare in alcun modo la veridicità. Cosa ben diversa sarebbe invece andare ad inserire all'interno l'intera documentazione relativa al prodotto o al lotto in questione, come ad esempio i materiali, produzione, provenienza, fornitura, lavorazione, tempi, costi, impatto ambientale, trasporto, tutto quanto. Questa è la vera trasparenza che la blockchain da sola non può fornire, in quanto si basa e si affida completamente ai dati che io, azienda, scelgo di inserire all'interno di essa e se sposo quindi, oppure no, la filosofia portante di essa, ovvero la trasparenza. E a tal proposito, infatti, sarebbe doveroso che i dati in questione non venissero mai inseriti manualmente da qualcuno, ma che la questione venisse delegata completamente ad un computer per scongiurare per l'appunto il fattore umano ed una loro possibile alterazione, data per esempio, a questione impossibile in Italia, dal percepimento di una bustarella. Nulla di più sbagliato perché sì, pur che all'interno di una blockchain siano presenti diverse criptografie, come ad esempio le firme digitali piuttosto che i codici esce, la blockchain in sé e per sé non risulta assolutamente criptografata. Specifichiamolo bene perché si tratta di due scenari diametralmente diversi. Se lo fosse, quindi se la blockchain fosse criptografata, la blockchain nella sua interezza, nessuno potrebbe accedere per verificare i dati contenuti all'interno di essa e pertanto si andrebbe a minare fondamentalmente quello che è uno dei suoi tre principi fondamentali, ovvero la trasparenza. In italiano, infatti, con il termine criptografia si intende quella branca che studia metodi per rendere incomprensibile a persone non autorizzate un determinato messaggio, garantendo il requisito di confidenzialità e riservatezza tipico della sicurezza informatica. E quindi, lo ribadiamo nuovamente a scanso di equivoci, se una blockchain fosse criptografata e non lo è mai fondamentalmente, nessuno, a parte il suo proprietario ed eventuali pochi spesso utenti autorizzati, potrebbe accedere ai dati contenuti all'interno di essa. Vero ma solo in parte perché sì, indiscutibilmente la blockchain è una tecnologia che ciuccia non poca corrente, ma dipende a paragone di che cosa. Cioè, se la confrontiamo con una lampadina, ehi, direi che non c'è partita. Ma per darvi qualche dato effettivo sul quale poter ragionare, considerate che, stando ai dati della Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, esposti l'8 febbraio 2022, il consumo della sola blockchain di Bitcoin è pari a 125 terawattora, ovvero soltanto lo 0,59% dell'attuale consumo elettrico globale. Mentre invece l'attuale sistema bancario ne consuma ben 650, per non parlare di quello dell'aria condizionata che arriva a toccare le 2.199 terawattora. Per cui sì, innegabilmente la blockchain consuma molta energia elettrica, ma spesso non tanto quanto mi hanno fatto credere. Ammetto che quest'ultimo punto inizialmente non era in programma, ma appunto ho deciso di aggiungerlo in coda agli altri perché ho scoperto essere un argomento molto chiacchierato sul web, e la cosa mi lascia francamente abbastanza basito, perché sostenere ciò significa che non si è capito un'acca dell'argomento di essere, ed anzi che non si sta minimamente usando, cosa ancora più grave, quella cosa che abbiamo in mezzo alle orecchie all'interno della calotta cranica. Come sostiene anche l'affermazione stessa, la blockchain è una tecnologia, e una tecnologia, qualsiasi tecnologia in quanto tale, non è né buona né cattiva, dipende tutto dall'uso che se ne fa. Perché vi ricordo che siamo noi esseri umani a inventarci costantemente nuovi metodi e nuovi trucchi per ammazzarci l'un l'altro. Gli aeroplani possono essere usati liberamente per viaggiare in giro per il mondo, come anche doverosamente attrezzati con qualche mitralettrice e qualche bombetta per servire morte dall'alto su un piatto d'argento. La fissione nucleare, fondamento delle centrali omonime che potrebbero permetterci di ottenere energia pulita per decenni, noi l'abbiamo utilizzata questa tecnologia per creare delle bombe di distruzione di massa. La nitroglicerina, un esplosivo famosissimo che si usa credo ancora abbastanza in giro per il mondo, correggetemi se dico una stupidaggine, viene utilizzata anche per curare malattie cardiache, quindi diametralmente al contrario, oppure anche soltanto le lame e i coltelli in genere, che possono essere usati davvero per qualsiasi applicazione come anche per affettare qualcuno alla stregua di un rossbiff. Insomma, credo di aver reso il punto, potremmo stare qui a fare esempi per le prossime 25 ore ma vi risparmio la cosa, credo di avervi fatto capire la questione e spero che d'ora in poi dubbi di questo tipo eviteranno di nascere, perché lo ribadiamo, la tecnologia di per sé, fine a se stessa, qualsiasi tecnologia, non è né buona né cattiva, dipende tutto dall'uso che se ne fa. E in conclusione lasciatemi abbandonare ad un commento, una riflessione sulla questione odierna, non tanto sull'argomento blockchain e tutte le persone che continuano in perterrete a demonizzare questa tecnologia H24 per i più disparati motivi, fuffa nella maggior parte dei casi, ma più in generale a tutte quelle persone che sputano giudizi e sentenze senza prima approfondire ed informarsi su un dato argomento, il quale spesso ignorano. Perché sta proprio qui il problema. E attenzione, non parlo come si suol dire dall'alto dei miei, perché anch'io sono ignorante come un radicchio su dozzine di argomenti. E proprio per questa ragione ritengo sia doveroso tacere informarsi ed ascoltare prima di esprimere un qualsiasi giudizio in merito. Perché tutte quelle opinioni di pancia e analisi della domenica che spesso si vedono postate su blog e social network del caso con l'incrollabile convinzione di professionisti navigati che spesso non siete, anzi che nella maggior parte dei casi non siamo, spesso finiscono per essere lette da persone che hanno invece le migliori intenzioni con risultati disastrosi, le quali danno altrettanto origine a tutti quei falsi miti che attualmente stanno fioccando sul web come Nespole. E archiviata questa piccola parentesi di sfogo personale, mi perdonerete, concluso dicendo che la blockchain è una tecnologia davvero dal potenziale incredibile che potrebbe rivoluzionare il nostro mondo, ma che al giorno d'oggi è ancora acerba e presenta diverse criticità sulla quale si sta già lavorando, ma che attualmente la rendono inadeguata a diversi impieghi. E con queste parole gente lascio la palla a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate nel video di oggi. Sono riuscito a chiarirvi tutti i dubbi in merito all'argomento blockchain oppure no? Ed anzi, 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 eravate per caso già al corrente di tutto ancora prima che ve ne parlassi io? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.